Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Come avete sentito dal nostro sommario, due detenuti, un uomo e una donna albanesi di circa 40 anni, sono evasi ieri durante il lavoro esterno in un'azienda agricola di Pesaro. I due albanesi erano nel programma di reinserimento che permetteva loro di lavorare all'esterno della struttura. Entrambi erano stati condannati per tentato omicidio e scontavano la loro pena nel carcere di Villa Fassigi. L'allarme è scattato alle 15.30 quando i due non sono stati ritrovati all'orario stabilito per il rientro nella casa circondariale. La fuga dei due detenuti ha attivato la Polizia Penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale di Roma e il Nucleo Investigativo Regionale di Bologna che in collaborazione con le forze dell'ordine stanno setacciando il territorio alla ricerca dei due fuggitivi.